Gini Wijnaldum, la 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 la, Gini Wijnaldum, la 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 Paolo Di Bala Paolo Di Bala E De Sarawi Il Faraone E la Plutomask di Di Bala La Plutomask Ciao ragazzi Finalmente oggi posso fare un post partita senza rompe niente Finalmente questa è la soddisfazione più grande Fare il post partita senza rompe niente Senza distrugge casa Perché ogni volta le ultime partite da Roma Veramente mi stavano facendo salire nervoso Anche oggi nel primo tempo ho guardato una Roma col nervoso Avevo paura di non portare il risultato a casa Eppure per quello che avevamo fatto il primo tempo Avevamo creato tanto 0-0 Poi nel secondo tempo arrivano tutti con l'insieme Però Posso dire sono contento Per i tre punti importanti Perché la Roma adesso quarta in classifica Anzi terza barra quarta A pari punti con l'Inter E godo Ciao ragazzi E bentorni in questo video qui a Giaprez Oggi siamo qui ragazzi In un nuovo video Siamo appunto qui nel Giaprez Comentare e commentare il post partita La mia Roma Che oggi si porta 3 a 3 lunghezza 0 Contro la Sampdoria E non era facile Perché la Sampdoria va bene Che è la scuola più scarsa di questo campionato Va bene che è ultima in classifica Va bene tutto Però ricordiamo che Conoscendo pure l'allenatore stanco E c'è un allenatore che viene a regalare partite Ricordiamo che la settimana scorsa Ha fatto Ha rifilato tre pere Non mi ricordo contro chi Contro il Verona Tre pere contro il Verona E non ce lo scordiamo Perché il Verona Comunque poi sono squali che stanno lì all'ottata salvezza E non ce lo scordiamo Comunque Verona tra l'altro Che ha preso solamente un gol dalla Ju E poi ha preso tre pere dalla Sampdoria Una roba veramente da fantascienza Comunque Ci portiamo a casa questi tre punti Che sanno di vittoria Proprio importante Al di là della prestazione Che come al solito C'è stata una mezza prestazione Ma niente di brillare Niente di farmi brillare gli occhi Ecco Non è stata una Roma che mi ha fatto brillare gli occhi Però oggi ho visto una buona Roma E ci siamo portati a casa Addirittura con tre gol di scarto Quest'anno forse è la prima volta Se non sbaglio No forse l'ha andata col Monza È la seconda volta che la Roma vince con tre gol di scarto Veramente Non era mai capitato A parte forse in Roma Monza 3-0 Se non me sbaglio Però era il Monza Non quello da destra Il Monza quello con l'altro allenatore Non con il palladino Comunque Segnano Wijnaldum Di Bala Ed Esharawi Prima di tutto ciò Un mi piace Supportate il video È gratis Iscrivetevi al canale Attivate la campana Per rimanere aggiornata Tutta quanta la settimana Vi ricordo qua sopra nelle schede A fine video Trovate la live reaction Recuperare per chi non l'avesse vista Ve la lascio anche il link Nel primo commento Anche qua sopra nelle schede A fine video Quindi Vi comparirà dovunque Voi appena la vedete Se non l'avete vista Recuperatela E ovviamente Seguitemi sui social Instagram Plattaforma Viola TikTok Tutti quanti Dovete rimanere aggiornati Su tutti i social Perché soprattutto Instagram Che è il social Di raggruppamento Dove va a giorno Su ogni cosa E poi seguitemi pure Sulla piattaforma Viola TikTok Che Anche lì Sono molto attivo Soprattutto Non mi devo attivare Anche queste state Soprattutto su TikTok Quindi Seguitemi Perché ci saranno Aggiornamenti importanti Su entrambi le piattaforme Sia TikTok Che 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 La piattaforma Viola Sarò molto attivo Quest'estate Quindi seguitemi dappertutto Per Non perdervi niente Da dire oggi La Roma Che crea tantissimo 28 tiri 20 Non so tantissimi 28 tiri 28 tiri 11 nello specchio 3 gol Cioè noi Cioè una squadra normale Su 11 tiri nello specchio Farebbe Almeno 8 gol 7 Tu ne hai vatti 3 Ma 3 come sono avvenuti Tutti quanti nel finale 1 Il primo gol è stato bello Bello Mi è piaciuto l'azione Come è avvenuto Poi ho esultato come Poi sul gol di Guainaldum Ho esultato Perché me lo sentivo Cioè io mi sentivo Una Roma che vinceva tipo Di 1-2-0 Con tipo Guainaldum E di bala marcatori Ho preso 2 marcatori Su 3 E Sharawi diciamo Che è stato La ciliegina che mi ha fatto Usci un po' Un po' Un po' Fuori dal nervoso Perché Perché perdo Il risultato esatto Perché In un fantasy L'avevo contro Però soprattutto perché Il mio pronostico Era 2-0 Roma Gol di Guainaldum E di bala Avevo pronosticato Pure i marcatori E Sharawi Mi ha fatto Mi ha fatto Zompa il banco Tra virgolette Però complessivamente Sono contento Perché abbiamo vinto E non devo rompere niente Per fortuna Per fortuna La Roma che vola A quota 50 punti Raggiunge a pari punti L'Inter Sempre a 50 punti La Lazio Che sta a 55 E ragazzi Sta Lazio Non si è ferma Vince addirittura Pure a A Monza A Però per il momento La Roma Ha dato Ha fatto La sua prestazione E Sono curioso Di sapere la vostra Qua sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Il primo gol Arriva su Il primo gol Arriva diciamo Su una mezza Palla inattiva Su Mezzo Su un mezzo Pallone inattivo Con il colpo Di Matic Che serve Guainaldum E gol Dell'1-0 Un po' Da rapinatore Da era di rigore Perché poi Fa un gol Non facile Con un buon Controllo palla E E segna il gol Dell'1-0 Il 2-0 Arriva sempre Dai piedi Di Guainaldum Perché Guainaldum Viene servito E non mi ricordo Da chi viene servito Entra dentro l'area E se guadagna Il calcio di rigore Giustamente Che c'era Perché fallo Di Ravaglia Che oggi Ha parato di tutto Ravaglia Il terzo portiere Dalla Sampdoria Oggi ha parato di tutto Se non era per Ravaglia Stapartire sarebbe finita 8-0 Paro Ma comunque Per tutte le occasioni Che hai creato In diversi momenti Siamo poco cinici E infatti Secondo me Il peggiore in campo È stato Lo dico subito Tami Abram Veramente Non ha struciato un pallone Ogni pallone Che ha preso Praticamente Era pallone perso Quindi Siamo obiettivi In questo momento Abram A livello anche psicologico Non sta Vivendo un buon periodo Di forma Tra l'altro Si parla anche di lui Sul calcio mercato Quindi Non so che cosa farà A fine anno Abram Però per il momento Mi tengo Belotti Comunque come buon rincalzo Perché anche oggi Ha fatto una buona partita Quando è entrato Di sacrificio E mi è piaciuto Mi è piaciuto lui Ma tutti Oggi Oggi bene tutti Soprattutto Mi è piaciuto tanto Secondo me Il migliore in campo Wijnaldum Bene anche di Bala Di Bala Sempre uno dei migliori Però oggi Il pallino d'oro Diciamo la medaglia d'oro Del migliore in campo La voglio dare a Cicino Wijnaldum Perché comunque Ha fatto un gol Se ha guadagnato il calcio di rigore Che poi trasforma Dal dischetto di Bala Che Tira A sinistra Quindi spiazza il portiere E gol 2-0 E poi nel finale Arriva praticamente Al 94 Partita finita praticamente Arriva il gol del Faraone Che già ci aveva provato In precedenza C'è stato un palo Nel primo tempo Di Wijnaldum Quindi la Loma Oggi ha creato tantissimo E L'assist di Sol Bakken Che aveva buoni pregiudizi Su di lui Ho detto Secondo me Metterà lo zampino Quando entra E l'ha messo Per il terzo gol Della Roma Comunque Fatemi sapere la vostra Già per se tutto E noi ci vediamo un prossimo video Beh ragazzi Sempre comunque Forza il calcio E forza Roma Sempre Dai ragazzi Iscrivetevi E Gini Wijnaldum E Paolo Di Bala E la Pluto Mask Dai E poi Sciarawi Sempre Forza Roma Dai Dai